È stato approvato dall'Assemblea regionale siciliana il nuovo codice dei contratti pubblici, voluto fortemente dal governo Schifani. Il testo, predisposto dall'assessore alle infrastrutture Alessandro Arricò, integra la norma nazionale efficace in Italia dal 1 luglio, con alcune importanti modifiche. La legge regionale, appena parata dall'Aula, introduce la centrale di committenza unica regionale, articolata in una centrale di committenza per beni e servizi, sotto il controllo dell'assessorato dell'economia e in una centrale di committenza per gli appalti di lavori pubblici e di servizi di ingegneria e architettura, ex UREGA, incardinata presso il Dipartimento regionale tecnico dell'assessorato delle infrastrutture. Si tratta di un'importante norma di riforma, sottolinea il Presidente della Regione Renato Schifani, che recepisce il nuovo codice dei contratti pubblici nazionali, dando certezza agli enti locali e a tutte quelle strutture come aziende sanitarie, consorzi e altre pubbliche amministrazioni chiamate nei prossimi mesi a gestire gare di appalto per opere pubbliche finanziate da importanti risorse economiche provenienti dal PNRR e dalla Programmazione Europea 2021-2027. Il test approvato all'ARS introduce alcune norme migliorative, puntando soprattutto sulla semplificazione delle procedure, come ad esempio la norma sulla Commissione Lavori Pubblici, la quale sarà adesso chiamata ad analizzare soltanto i progetti con importo superiore a 20 milioni di euro, consendendo una maggiore rapidità nei tempi di approvazione. Le nuove norme introdotte, infatti, garantiranno un dimezzamento dei tempi per l'acquisizione dei pareri e una conseguenziale e celere procedura di gara. Una riforma importantissima, aggiunge l'assessore a Ricò, che renderà le procedure di gara più veloci. In linea con le specificità della Sicilia, diamo certezza agli enti locali e alle pubbliche amministrazioni dell'isola, la chiamate nei prossimi mesi a dover gestire numerose gare di appalto per opere da realizzare con i fondi del PNRR ed europei. Un grazie a tutto il Parlamento siciliano, che con grande senso di responsabilità in un clima di collaborazione bipartisan, ha consentito una celere approvazione di uno strumento normativo importantissimo per lo sviluppo della Sicilia. Con questa riforma abbiamo scritto una bella pagina di collaborazione tra forze politiche che fa bene alla nostra terra.